Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera allenatore su FIFA 23, allora ho trovato il mio bomber, ho completato la squadra, adesso mi mostro direttamente dagli ultimi acquisti fatti, allora il mio club ho preso in prestito come esterno, sarà perché ho venduto, c'era 3 milioni, esposito come esterno destro perché lo sto trasformando, dell'Empoli, 17 anni 65, non prospetto, ci sta anche perché il titolare sarà ovviamente Vega, non sono arrivate offerte per lui, quindi rimane se non viene ceduto. E' veloce questo esterno, quindi ci sta il cambio, c'era aveva 33 anni, lui 19, Gabbia avevo pochi soldi quando l'ho preso, come rattopo, come ormai è diventato il rattopo come quarto centrale di difesa, comunque il 74, è lento e non mi piace tanto, però come quarto centrale potrebbe anche starci. E Morata, ho scelto Alvaro Morata dopo tanta selezione, sono riuscito a pagarlo 15 milioni, l'Udinese ne richiedeva 24, ha 31 anni, 80, buone statistiche, mi permetterebbe perché quest'anno dovrebbe compiere 32 anni, di fare almeno due anni, due anni dovrebbe reggermeli proprio come volevo. Spero di trovarmi bene, se no il prossimo anno vediamo se riesco a piazzarlo, una clausola di rimedio del 5%, però non è elevatissima, posso all'occorrenza rivenderlo. Vabbè, Correa l'avevo preso in video, quindi ho fatto questi ultimi tre acquisti più cessione per completare la squadra, ora ho un ricambio per parte, quindi sono a posto, a limite mi sono rimasti 6 milioni, vediamo a gennaio se servono, se no me li tengo per il prossimo anno. Saltiamo la conferenza stampa e andiamo a giocare subito la prima partita e chi ci capita è il Napoli, vabbè, che ha una bellissima squadra, si è preso Locatelli, Kimle, Norman, Roberto, Politano, Politano che volevo prendere, Marziale, Punta Centrale, Cavara, Scheria, forse, Marziale è forte, ma forse si è indebolito come Punta Centrale, diciamo, vabbè, faccio la squadra e ci vediamo in campo. Ci siamo, Regina Napoli, dei nuovi acquisti come titolare ho voluto inserire solo Rui Patrizio per provarlo subito contro una pig. Contratto di un anno per lui, è stato preso proprio come toppa perché budget era quello che era, Fagioli, in panchina, Morata, preferito Mokuko perché già sa gli schemi della squadra e quindi, Liotti cerca il traversone, però avrà spazio nel secondo tempo, eh, Morata. Didi e il Napoli però una squadra della Madonna, eh. No, ma perché L1 di merda? Rui Patrizio, subito la sua prima parata, subito chiamato in causa l'ex portiere della Roma, pagato 900.000 euro. Vai Correa, ho speso 18 milioni per te. Rinnova la fiducia, Mokuko. Mokuko, no, che si è mangiato, questa era un'occasione atomica. Questa era un'occasione atomica. Mokuko, dai, ti ho preferito anche a Morata. Correa, eccolo qui, eccolo qui, mister 18 milioni. Subito fiducia e io lo volevo a tutti i costi perché mi era piaciuto. In questi due anni Correa è cresciuto tanto e mi è piaciuto. Vai Zorro, Correa, 2-0. Avanti così, avanti così, regina, dai, dai, dai. Si prende la tazzina di caffè. Correa, doppietta. No, Robinson, no. Eh, vabbè. Martial da lì non sbaglia. Robinson commette un errore, un'ingenuità. Due a uno la riapre subito. Eh, noi senza la ridimbiolata non sappiamo stare. Eh, vabbè, dai. Due a due. Correa. Vai, Felix. Vai, Felix. Tripletta di Correa. Tripletta di Correa. Ci riportiamo in vantaggio. Mamma mia, Correa è ritornato. È ritornato veramente alla grande, eh. Cato. Eh, ma dai. Eh, ma dai. Ma dobbiamo sempre subire valanga di gol. 3 a 3. Muriel ha appena entrato. Eh, che diamine. Ma perché mi dovete fa sempre incazzare? Io mi ero pure gasato sul 2 a 0. Morata, niente. Morata, ti prego, non ti voglio giudicare subito dopo mezza partita e il primo pallone che tocchi. Però non fare che sei il floppone, eh. Nooo. Mannaggia, oh. Vola Rui Patricio. 3 a 3. Che peccato. Sempre per la difesa di merda. Questo è il nostro limite. Prossimo anno sei in attacco. L'ho preso quello di esperienza. Che può rivelarsi anche un floppone. Perché non si è visto proprio nei minuti avuti. Infatti 5,9. Oh mio Dio, che è Walker è svincolato. Ma io non l'ho trovato, però sei svincolato dopo. Ma io ho ricercato nei... Non mi ti prego, non me lo direi che me lo prendi. Che io lo soffio. Lo so, ce l'ho già ai Dersini, però è Walker. È ancora tra gli svincolati. È comunque un 83. Contattato dal Napoli. Kai, vuoi venire da noi? Dai. Ti prendo al volo. Inglese. Ha 34 anni, è vero. Però comunque ci darebbe una mano. Mi permetterebbe Zanoli no, però mi permetterebbe che so, di prestare a Rieta? Magari faccio un anno di contratto? Ah, ne vuole due. Uno lo posso fare. Vediamo se si riduce di un anno. Un anno accetto, ok. Ignoriamo la clausola recissoria. Guarda, lo stipendio mi andrebbe pure bene, però ti abbassi un po'. Il bonus ingaggio è da 96 a 40.000? Sì, ok. Benvenuto a Kai Walker. Acquisto dell'ultimo secondo. Meno male che c'è ultime voci. Se no è il Napoli se lo beccava lui. Walker mi piace come Dersino. In qualche carriera l'ho preso. Offerta per il presto di Aguirre con diritto alla Laziaz? Alla concorrenza? Però... Sì, io... Delego, accetto chiunque. Presto sempre per un anno. Però certo, se va al Fosburg è meglio. Non me lo ritrovo contro in Italia. Anche se alla Lazio c'è... Non so quanto giocherebbe, ma anche il Fosburg fa giocare un 72. Darò via al Fosburg. Però ha scelto la Lazio. Beh, sinceramente l'avrei scelto anch'io. Sarei rimasto in Italia. Anzi, in realtà avrei chiesto... Come dire... Garanzie diciamo nel mio ruolo in squadra. Vai, specificato. Eh, questa sarebbe stata una bella offerta perché Mokuko... Hmm... Sta facendo un po' il cattivello, eh. Però rifiuto anche perché anche se accetto non è rimasto tempo. Se ne parlerai il prossimo anno, dai. Non voglio cederlo a Genami che non fa proprio cagare, eh. Non lo cederò a Genami. Ne riparleremo a giugno prossimo. Antonio Silvia, 6 milioni. No, lui... Lui mi dispiace perché ha potenziale per crescere tanto però non gioca quasi mai. Rifiuto l'offerta al momento perché mi servono 4 difensori poi partirebbe a Gennaio. Anzi no, me l'avrebbe rifiutata. Ok, calciomercato finito. Andiamo a giocare anche come ho registrato prima nella carriera giocatori. Anche qui farò solo questa partita e poi basta. Poi dal prossimo episodio riprenderanno diciamo a ritmi pieni. Faccio la formazione e ci vediamo in campo. esordio dal primo minuto per Kai Walker ho messo anche Zani Macchia esordio anche per lui dal primo minuto. Ho messo Morata che giocherà dal primo minuto anche lui. Vediamolo dal primo minuto. Allora, col Napoli sì, dovevamo vincere. Dovevamo vincere perché è arrivata... cioè, stavamo vincendo 2-0 e ci siamo fatti recuperare. però che la Cremonese con tutto il rispetto però se vogliamo veramente puntare diciamo nelle parti alte della classifica bisogna vincere. Sei anche in casa quindi tutto regolare secondo il direttore di gara. Ok Reke. Allontaniamo perché veramente se non arriva una vittoria qui comincio a pensare a un cambio di tattiche a un cambio di modulo perché vuol dire che qualcosa non funziona. Zani Macchia e mi dispiace perché vuol dire crollo perché lo scorso anno abbiamo preso schiafi ma li abbiamo anche dati. Morata Morata cerca il traversone nulla di fatto. Ha fatto la partita però non si è visto poco. Dai Vega! Vega! Alleluia! Alleluia! Forse il primo tiro importa il primo gol. Alleluia! Zorro la messa! Alleluia! Che sofferenza! Mamma mia! Che sofferenza! E quando giochiamo contro It contro Mila contro Io che facciamo? Mamma mia! O giochiamo meglio con loro? O giochiamo meglio con loro? Non lo so. Vega fa gol si sblocca andiamo ai cambi Morata mi aspettavo una partenza diciamo più sprintosa invece ho paura ho paura di aver toppato con lui eh ho questo presentimento per il momento mi fermo qui con i cambi voglio dare ancora a Morata un'altra decina di minuti ma ho questa sensazione perché ora voglio mettere il secondo tempo però ora il tempo per metterti in mostra l'hai avuto io non l'ho proprio visto eh deve pareggiare dai deve pareggiare si è capito e dai io faccio X mi butto il pallone non ho proprio toccato quadrato me l'ha buttata così e dovevano pareggiare dai ma che script di merda è questo ah cioè quello mi butta il pallone questo lo perde a pesce proprio cioè mi butta il pallone per l'aria quello ma chi è stato Walker Walker ti ho preso all'ultimo momento non mi ricordo se è stato non l'ho visto bene però se è stato tu cacchiarola che ti è prego è un passaggio me l'hai buttata quest'altro che mi tiene vega in velocità guardate come cazzo fa non lo so no no mannaggia madonna si entrava va fangula va 2 a 1 ancora vega ora occhio mancano pochi minuti se questi segnano è finita ma quanta sofferenza mamma mia vega ancora in una partita deve esserci un protagonista che fa gol è la scorsa correia oggi vega sempre gli esterni le punte niente dai Morata oh gol della merda però almeno si sblocca si sblocca Alvaro Morata l'avrebbe fatto chiunque da lì il gol però almeno si è sbloccato il numero 9 dai si è sbloccato Alvaro Morata su assist di Bruno su contropiede 3 a 1 beh ho sofferente o no con l'attacco almeno cioè tre gol li abbiamo prodotti ma primo nel finale tre gol a partita abbiamo fatto tre gol a partita in queste prime due partite la difesa che fa un po' acqua beh almeno qui un gol solo rispetto ai tre presi Arieta contro la palla fa finire 3 a 1 3 a 1 beh oddio forse un 3 a 1 la cremonese non se lo meritava però chi se ne frega i tre punti li dobbiamo prendere se vogliamo puntare all'Europa queste vittorie devono arrivare soprattutto in casa guarda 4 a 1 4 a 11 di tiri perciò dico che la cremonese non lo meritava questo parziale abbiamo avuto anche per lei che ha fatto diverse parate cioè i portieri non sono malacci con tutto che subiscono gol però ovviamente se il giocatore si trova tu per tu una volta si trova tu per tu due volte si trova tu per tu tre volte prima o poi te la mette dentro non può pararle tutte il portiere parto con un'offerta da 2 milioni e 8 scendere minimo a 2 e mezzo non mi interessa la causa della rivendita per 2 e mezzo sì per 2 milioni no lo cedo al prossimo giur accettano 2 milioni e mezzo mi spiace perché non mi aspettavo che fosse così veloce a me piacciono nei terzini veloci però Aguirre è veloce posso richiamare Aguirre tenerlo lì tanto questo parte a gennaio quindi fino a gennaio no no si è bloccato il gioco no no ah no meno male meno male allora conference fammi vedere e dai ma che è questo blocco bodoclimp silkeborg e dunque united vabbè penso che siano comunque squadre che possiamo competere dovremmo provare a passare da primi se no ai sedicesimi becchiamo cioè se passiamo dai secondi becchiamo dai retrocessi dell'europa league ecco possibile cambio ruolo per esposito quindi avremmo il ricambio il quarto diciamo esterno piano di crescita e inizieremo a farlo giocare anche perché devo valutarlo so che c'è vega lì che è difficile panchinarlo 75 ha fatto più 10 mamma mia da 1975 diventa 1975 e questo è un colpo di mercato che ho fatto astronomico cioè io questo lo devo riscattare allora anche per più svalenza cioè ora vale 8 milioni e mezzo io non mi ricordo però l'ho messo a più cioè 372% di aumento mamma mia questo è da riscatto praticamente questo deve cioè se gioca bene non devo guardare solo l'overall però dai avere un acquisto in più cioè da averlo a 65 ora ce l'ho a 75 cioè è un'altra cosa è un'altra faccia vabbè io mi fermo qui per oggi è tutto la classifica è inutile che la mostro vabbè la mostro dai ma è inutile cioè le prime due partite siamo quarti quindi per oggi è tutto iscrivetevi al canale cerchiamo di arrivare ai 400 iscritti possiamo farcela lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye bye